Non solo, dalle prenotazioni che abbiamo avuto ci sarà un numero importante di appassionati che arriverà dalla provincia di Bergamo e non soltanto, quindi anche da Milano, Lecco e Brescia. Abbiamo fatto un grande sforzo organizzativo, sia come amministrazione che come comitato organizzatore e anche la federazione, ci auguriamo di essere davvero pieno per Italia e Portogallo, un evento che segna il ritorno di una nazionale nella nostra città. Magari ci sarà la diretta televisiva e soprattutto ritengo che l'appuntamento sia per la qualità del gioco che verrà proposto, perché sono due delle nazionali migliori in circolazione, sia per il forte richiamo che avrà su tutti gli appassionati non solo di calcio 5 ma di sport in generale, possa davvero significare tanto per la nostra città e per questa disciplina.